Diciamo che come avevamo anticipato il giro di ritorno è molto diverso dal giro di andata e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Effettivamente Teramo e Parma all'andata ci didero dei dispiaceri perché in due partite prendemmo otto gol, questo giro ne abbiamo presi dieci. E' dura dirlo, è dura prenderne atto però è la realtà e dobbiamo in qualche maniera reagire. Mi auguro a Sant'Arcangelo di ripartire, di riprendere un percorso che a noi non piace, un percorso che non meritiamo e ci dobbiamo ribellare con tutte le nostre forze. Non sarà facile perché da questi momenti se ne esce con la pazienza, con la calma, però in noi c'è il forte desiderio di invertire questa rotta negativa. Lo sentiamo addosso, non siamo contenti, si cerca un pochino di mascherare l'amarezza, anche col sorriso. A volte no, quando uno è deluso da più che altro se stesso ci fa un sorriso e spera di invertire la rotta. Però serve un grande stato d'animo, serve una grande forza di volontà. E mi auguro che possa essere come nel giro di andata l'inizio di un nuovo percorso. Ultimamente non riusciamo a esprimerci come eravamo abituati e come tutti ci aspettiamo quando scendiamo in campo. Affrontiamo una squadra che, giustamente hai detto, per caratteristiche tende a non far giocare gli avversari e con grandi ripartenze attua un modulo che ormai dall'inizio dell'anno ha consolidato e imparato a memoria. Fa dei risultati importanti perché è andata a pareggiare a Venezia, ha vinto uno scontro diretto col Forlì e due a zero in casa. Quindi è una squadra in salute che sicuramente non ci concederà grandi spazi. Dobbiamo essere bravi a calarci nella nostra nuova realtà. Una realtà che ci vede meno belli, una realtà che però ci mette di fronte a un adattamento. Dobbiamo essere bravi ad adattarci a questo momento. Quindi magari anche noi, nel non essere spumeggianti come eravamo prima, però essere molto più pratici, far trovare un pochino più di solidità e aiutarci tra i reparti. Perché questa è la risposta che mi aspetto dalla squadra. Io sono sincero, anche la settimana scorsa, e anche se c'erano delle avvisaglie perché le scorie di Teramo non erano facili da togliersi, la squadra in settimana si allena bene, ha una grande forza, ha un grande spirito di correre. Anche per me è una situazione, sono sincero, non ho una soluzione, non ho certezze con le quali superare queste difficoltà. Ho grande voglia, ho grande intensità, ma anche i ragazzi me lo dimostrano e anche loro hanno questo sentimento di superare questo momento di difficoltà. Mi auguro di vedere veramente un gubbio come lo vedo in settimana, con intensità, con grinta. Ripeto, magari meno bello, però molto pratico e sicuro di sé. Per certi versi abbiamo dato segnali di insicurezza, forse abbiamo perso un po' di fiducia in noi stessi. Quello che ho visto in settimana mi lascia, non dico sereno, ma fiducioso sicuramente. Però poi subentra la gara, subentra l'ansia e quello che un pochino si è riusciti a tenere lontani per tanti mesi, adesso invece ci accompagna. Spero di svoltare, spero che la squadra, perché se lo merita, se lo meritano i ragazzi per come si allenano durante la settimana, spero in un risultato positivo perché potrebbe essere la medicina migliore in assoluto. I ragazzi non mi danno segnali di stanchezza, non vanno in fatica durante l'allenamento. Tengono intensità, tengono determinazione, grinta. A volte sono io che devo dire piano perché proprio si stanno un pochino ribellando a questa cosa. È ovvio che poi alla domenica c'è il fattore emozionale. In questo momento stiamo dando molta importanza all'errore. Domenica col Parma, dal mio punto di vista, dopo preso il primo gol, la squadra era sotto un treno, più moralmente, più emotivamente che altro. La storia di questa squadra porta un pochino a questo tipo di reazione. Noi abbiamo fatto ad oggi 31 partite. Se andiamo a vedere, forse dall'inizio dell'anno ne abbiamo sbagliate 5, 6, forse neanche, perché magari clamorosamente ne avremmo sbagliate 3. Le altre due o tre sono state partite un pochino gestite o comunque giocate sotto tono, però comunque tatticamente ordinati. Probabilmente la continuità delle 38 partite o le tante partite ti porta a una difficoltà di mantenere la concentrazione. Il prendere gol, spesso, nelle ultime partite su pallina attiva, è più un errore di concentrazione. Le energie nervose ti tendono a mollare un pochino. È la categoria, anche per me stesso, è la prima volta che la faccio. Quindi pensi di poter sopperire con, e invece ti rendi conto che non è sufficiente. Allora hai bisogno di dare qualcosa in più, sia sotto l'aspetto tecnico, tattico. Io sono molto autocritico con me stesso. Penso volentieri, ripensi alle partite precedenti, magari ti crei più bagaglio, più esperienza, passando attraverso battoste o sconfitte, piuttosto che magari episodi fortunati che nascondono delle mancanze e ti aiutano a crescere. Però se vogliamo veramente crescere dobbiamo avere lo spirito di ribellione. Non vogliamo che vada avanti in questo modo. E allora se riusciamo a superare questo momento, ma dipende solo da noi, esclusivamente da noi, se però riusciamo a passare questo momento, allora questa squadra può veramente aver fatto il passo in più. E possiamo tranquillamente programmare. A oggi secondo me ancora non è il momento di programmare il futuro, ma consolidare veramente quello che abbiamo in casa. E poter migliorare in futuro questa squadra su più indicazioni possibili. La classifica nasconde delle insidie. Forse oggi è più difficile giocare contro quelle che sono in fondo la classifica. Non lo so, dico forse. Però anche i risultati stessi dimostrano che, guardate, Feral Pissalò, lo stesso Albino Leff ha perso in casa domenica, Sant'Arcangelo che pareggia a Venezia. La maceratese che sta facendo cose straordinarie. Vedi le partite del Bassano, non vedi una squadra allo sbando. È una squadra che si impegna alla morte, poi gli girano male gli episodi. Perché non è facile poi quando le cose non ti riescono, subentra la sfiducia. Noi dobbiamo essere bravi. Si è stati bravi per otto mesi, tra virgolette, a tenerceli fuori questi problemi, perché altrimenti ci saremmo trovati in un'altra situazione di classifica. Oggi ci troviamo ad affrontare una problematica alla quale non siamo abituati, alla quale dobbiamo in qualche maniera, ripeto, ribellarci con grinta, con umiltà. Però in Lega Pro unica grinta e umiltà non è sufficiente. Devi ribellarti anche con un equilibrio tattico, con una qualità individuale importante. Quindi tanti fattori vanno messi insieme. La fortuna aiuta gli audaci. Noi prima eravamo audaci e tra virgolette la fortuna ci ha anche sorriso in certi particolari. Non sempre, però io non posso attaccarmi alla fortuna. Però dobbiamo andarcela a cercare un pochino questa fortuna. Ci dobbiamo ribellare. Se non c'è, riproviamoci. E questo è un pochino lo spirito che ci deve accompagnare. Perché poi alla fine è vero che perdere dispiace, poi perdere con largo margine dispiace ancora di più. Però alla fine è anche dire, vabbè ho perso ma almeno me la sono giocata. Ecco questo, noi dobbiamo avere questa forza. Anche, fino ad ora era successo. Fino ad ora era successo. Per quello dico ci troviamo di fronte a una problematica che anche noi non sappiamo quale può essere la soluzione. Sicuramente non c'è una soluzione unica. È un percorso che dobbiamo vivere guardandoci allo specchio e cercando in tutte le maniere di superarlo. Non so ancora come, sicuramente non tralasciando grinte e umiltà, però non saranno sufficienti. Ci vorrà anche un grandissimo equilibrio tattico. E probabilmente anche un pizzico di fortuna se saremo bravi ad andarcela a cercare.